Buongiorno, era il gennaio 1996 quando sulle pagine della Voce di San Zeno due giovani parrocchiani, Massimo Cogliati e Lorenzo Brusetti, con passione ed energia, pubblicarono il primo di 105 articoli dedicati alla storia di San Zeno e della Brianza. Di lì a poco, grazie all'iniziativa del parroco don Giancarlo Cereda, furono pubblicati i primi lavori sulla storia del Foppone e del campanile della Chiesa parrocchiale. Nel 2001, sulla scia di questi articoli, fu pubblicato il primo libro sul paese, Ogiate Molgora, una storia in cammino, finanziato dall'amministrazione comunale dell'allora sindaco Renato Sala. Dopo oltre vent'anni vogliamo riproporvi la rivisitazione di quegli articoli, affinché i più giovani possano scoprire le radici della ricerca storica parrocchiale e i più maturi rileggerne con piacere le pagine più significative. Iniziamo dunque con il primo articolo intitolato Tutti al mare a San Zeno, che a differenza dei successivi è firmato dal geologo Antonio Longhi di Cernusco. I geologi studiano la terra cercando di capire come si è formata e come si trasformerà sia per cambiamenti naturali sia per l'attività dell'uomo. Attraverso l'osservazione del territorio e lo studio delle rocce, geologi ricostruiscono l'evoluzione di una zona nel corso delle ere geologiche. Ma quali grandiose avvenimenti hanno portato alla formazione della Brianza, posta tra le Alpi Calcave Meridionali, per esempio Vesegone Grigna e la pianura padana? Nel Cretaceo, al tempo dei tirannosauri e dei triceratopi, la nostra zona era occupata da un bacino marino poco profondo. Da nord giungevano vari sedimenti, che si depositarono nel mare. Le grosse frane sottomarine contribuivano a distribuire nel fondo. Ecco che si formano le rocce sedimentarie, le caratteristiche rocce stratificate. Nei milioni di anni che seguivano la scomparsa dei dinosauri, questo mare divenne gradualmente più profondo. I sedimenti erano formati da finissima argilla, che per l'elevata pressione si compattava in strati di rocce, rosse o grigie, a seconda che ci fosse o meno ossigeno nel fondale. La tipica roccia sedimentaria branzola è la marna, formata da argilla pietrificata e calcave, e sfruttata per fare cemento. Ed è per questo che la Brianza ha avuto numerosi cementifici, come per esempio il nostro Ritalicone, cementificio Ritalcementi, attivo nella prima metà del Novecento. Poi il mare sparì, e l'avvicinamento dell'Africa all'Europa fece sorgere le Alpi, riducendo l'antico Cerno in ciò che ora è il Mediterraneo. Prendiamo dei libri ed avviciniamoli. I fogli si inarcano o si affossano formando delle pieghe, proprio come le pieghe, le faglie e i sovrascorrimenti delle rocce. E queste pieghe sono ben visibili, per esempio, nelle nostre montagne, come il Resegone. Ma si notano anche a piccola scala. Provate a risalire il corso del torrente Molgora appena sopra Mondonico, oppure percorrere il sentiero per il San Genesio. E arriviamo a un milione di anni fa. A causa dell'abbassamento della temperatura media annuale, grandi colate glaciali discesero da nord. Ecco le famose glaciazioni. Le lingue dei grandi ghiacciai, scendendo dalla Valtellina, terminavano proprio nella nostra Brianza, depositando attorno alle colline a cumuli di sabbia e macigni, le morene. Le morene glaciale modellarono caratteristici profili a C o a D, come si vede bene nella valle di San Zeno, ma anche a Sirtori, Maresso e Rovagnate. Le morene formarono anche dighe naturali che impedivano il deflusso delle acque verso valle. Nacquero così paludi, stagni e laghi, come quello di Sartirana, e quelli del lissolo e della Bernaga, oggi prosciugati. Quando i ghiacciai si ritiravano, tra un periodo glaciale e l'altro, l'acqua di scioglimento modellò le valli del sistema collinare Brianzolo. Ma ancora oggi, nonostante l'apparente dominio umano sul territorio Brianzolo, le nostre colline sono continuamente soggette a trasformazioni, di cui ci accorgiamo solamente in occasione di frane o alluvioni. L'acqua, il ghiaccio, il vento agiscono senza sosta su tutto il territorio. Il mondo geologico cambia lentamente, ma inesorabilmente, nel corso della storia umana.